Luigi Villani, presidente della Proloco Venticanese. Una fiera giunta alla 41esima edizione significa che prepotentemente diventa sempre più un riferimento per tutto il mezzogiorno, Luigi. Certo, le difficoltà ci sono, quali le novità, quali numeri vi aspettate da questa 41esima edizione della fiera campionaria di Venticano? Beh, ogni anno noi cerchiamo di allestire al meglio le edizioni. Siamo arrivati alla grandessima fiera campionaria per la forza, per la sinergia che c'è all'interno della Proloco e nonché del comitato. Tantissime sono le novità, ripeto, in ogni settore abbiamo cercato di trovare la novità da poter esporre e da poter far vedere ai visitatori che ci onerano della loro presenza all'interno del quartiere felistico. Quali saranno le novità, presidente? Le novità le dovete scoprire il 21, altrimenti poi non venite lì in fiera. Sono tantissime, ci saranno tanti convegni, si parlerà dall'agricoltura al settore agroalimentare. Quest'anno abbiamo riproposto nuovamente il settore agroalimentare sotto la bandiera della CEA di Avellino, quindi tantissime sono le novità. Ricordiamo soprattutto le date? Dal 21 al 26 aprile. A Vendicano. A Vendicano, vi aspettiamo numerosi. Come mai? Qual è, presidente, il segreto del successo di una fiera che dura da 41 anni? Un segreto ci sarà? Beh, il segreto è la forza di volontà di noi organizzatori del Consiglio di Amministrazione della Proloco, nonché del comitato fiera. Tutta la cittadinanza di Vendicano, perché alla fine questa è una festa, tra virgolette, popolare, però noi ci crediamo e cerchiamo ogni anno di allestirla al meglio. Presidente, sempre in bocca al lupo e buon lavoro. Trepi, grazie. Dottor Luigi Denisco, sindaco di Vendicano. Dottore, siamo giunti alla 41esima edizione della fiera più importante del Mezzogiorno, praticamente. Ecco, quanto è importante questo evento per il territorio, per un territorio come Vendicano? Beh, il territorio sa benissimo che è un territorio molto piccolo e quindi è un vanto soprattutto per tutta la collettività e poi può essere un veicolo anche per una ripresa sia dal punto di vista occupazionale che ripresa proprio di questi territori che ultimamente purtroppo stanno vivendo dei momenti di fuga, fuga dei giovani, che non ci sono purtroppo delle possibilità di inserimento. Sì, da quando è nata questa fiera ha avuto uno sviluppo enorme, ora sta vivendo un momento di stasi. Come tutto il paese un po'. Come tutto il paese Italia, sì, questa ha ragione. La stasi di questa fiera è limitata, dovuta soprattutto all'area. Non riusciamo a trovare finanziamenti per completare l'area. Tutte le amministrazioni in questi anni hanno cercato di accomodare in parte quell'area, però un finanziamento cospicuo, così come necessita, purtroppo non lo riusciamo a trovare. Però rimane sempre un punto, un traguardo per gli addetti ai settori che aspettano questa fiera. Sì, ci viene richiesta questa vera da parecchie persone, da parecchi imprenditori. Ce ne dispiace, non posso dire altro, perché per quando gli sporsi a fare la prologo, purtroppo... C'è bisogno dell'aiuto sempre anche del privato, non c'è niente da fare. Purtroppo l'area è quella che abbiamo cercato negli anni scorsi di creare una struttura che potesse in parte alleviare i problemi. Non siamo riusciti neppure quella a chiudere, c'è bisogno di molta liquidità. Noi confidiamo sulla regione, sulla provincia, ci tiene una mano. È una delle prime fiere qua nella regione. Diciamo la seconda, dopo la mostro il tremare, ma non voglio fare danni a nessuno. Però è una delle prime nirpine, quindi rivendichiamo il giusto riscontro e la giusta osservanza. Sindaco, buon lavoro sempre. Grazie. Luca Bete, Avellinese Doc, per questo sempre presente sul territorio, un inviato Doc speciale per Striscia la Notizia in Campania, ma soprattutto ormai amico della Prologo Venticanese e di questo che è un evento, giunto alla sua 41esima edizione, Luca. Quanto è importante per il territorio una fiera come quella di Venticano? Ma guarda, forse dico una banalità, ma sono queste le piccole, grandi iniziative che nascono in sordina e che poi piano piano riescono ad affermarsi, grazie alla costanza e all'impegno di tante persone che lavorano, dal primo all'ultimo, per cercare di creare un luogo d'attrazione. Forse sono queste le cose che mancano nella nostra terra, perché ci sono tantissime eccellenze, tantissime cose belle che però inevitabilmente restano un po' in sordina. E allora queste casse di risonanza, questi amplificatori sono utilissimi per lo sviluppo del territorio, per restituire un po' di quella dignità che la nostra magnifica terra merita. È vero. Non ti ferma nessuno? Non ci ferma nessuno? Quarta edizione, che cos'è? È un tour che nel 2014 ho fatto partire così, quasi come un esperimento. Volevo provare a dare il mio contributo a tanti ragazzi che magari si sentono un po' smarriti in questo periodo in cui sembra davvero difficile venirne a capo, trovare una propria collocazione nella società, vedere proprio realizzato un proprio sogno. Abbiamo raggiunto grandi risultati, perché quest'anno abbiamo ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, il patrocino del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Abbiamo fatto gli incontri in Vaticano, 7.000 ragazzi con Papa Francesco a parlare proprio di queste cose. Quindi da Venticano, come inviato di Striscia la Notizia, come diresti? Beh, quindi da Venticano possiamo dire che è tutto per Striscia la Notizia. Luca, a bete! Sono proprio io! Luigi Rubicondo, Porte di Infissi, main sponsor della 41esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano. Abbiamo bisogno di voi queste fiere, è vero, è un appuntamento importante per tutto il mezzogiorno, ma grazie a voi che si riesce a realizzare tutto questo. Grazie, del complimento. Vabbè, la nostra azienda è sempre stata molto attenta al territorio e ci piace investire in questi progetti dove ci sono alle spalle figure di persone per bene che hanno dei progetti e che hanno dei progetti per il nostro territorio, per la nostra gente, come si diceva prima al tavolo, insomma. La nostra è una provincia fatta di persone. Poi i ragazzi della Proloco Venticanese sono tutti giovani come te? Assolutamente, tutti giovani, tutti entusiasti di quello che fanno, infatti il presidente, l'amico, insomma, Saverio, tutte persone che ci tengono a quello che fanno e ci interessano, insomma. E allora, buon lavoro per questa fiera che, ricordiamo, sarà presente nel territorio di Venticano dal 21 al 26 aprile e voi sarete naturalmente in fiera. Siamo, ovviamente, espositori, assolutamente sì, grazie. Dal Teatro Totò di Napoli termina qui un'altra puntata di Eventi in Anteprima TV. Potete seguire tutte le nostre puntate sul sito anteprimatv.com Noi naturalmente vi aspettiamo puntuali la prossima puntata, non mancate. Noi naturalmente vi aspettiamo puntata, non mancate. Noi naturalmente vi aspettiamo puntata, non mancate.